Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video e grazie mille soprattutto per essere qui. Se vi interessa sapere come ottimizzare il vostro portafoglio di asset e di investimenti, questo è esattamente il video che fa per voi. Noi lo faremo, come sempre, sfruttando Python come linguaggio di programmazione e una sua libreria come strumento che, diciamo, ci permette di astrarre da tutti i principi matematici che naturalmente sono alla base. Naturalmente lo strumento di ottimizzazione del portafoglio è appunto basato sulla Modern Portfolio Theory di Markowitz. Quindi, diciamo, questo naturalmente è uno spunto per iniziare ad approfondire questo tema. Poi naturalmente nessuno vi vieta di andare ad approfondire sempre più a basso livello tutti i principi anche matematici che stanno alla base di quello che vi mostrerò. Io per semplicità e anche perché diversamente sarebbe un video molto più lungo, vi propongo questa libreria che effettua tutti i calcoli per voi. Quindi voi cosa dovete fare? Dovete semplicemente andare a indicare quali sono gli asset che fanno parte del vostro portafoglio, andare a identificare eventualmente le allocation di ciascun asset, cioè quanto in percentuale quell'asset occupa il vostro portafoglio e poi, come vedremo, tutta la libreria farà tutti i calcoli per voi e vi suggerirà come andare a modificare le diverse allocation per i diversi asset. A maggior ragione, se volete anche andare a integrare questo video, io vi propongo anche il video sulla correlazione, perché abbiamo detto che un portafoglio è tanto più efficace quanto gli asset che ne fanno parte sono decorrelati tra loro. Va bene, bando alle ciance, io direi di spostarci direttamente al computer e andiamo a vedere come calcolare la perfetta allocazione dei vari asset nel nostro portafoglio. Grazie mille e ci spostiamo al computer. Ciao! E vediamo come fare, come organizzare una prova pratica dell'ottimizzazione del portafoglio in pochi minuti con Python. Quindi, prima cosa, con il terminale posizionatevi, anzi, torno indietro io. Posizioniamoci nella home directory del mio repository che avrete scaricato. Come sempre, vi metto nella descrizione del video il collegamento appunto per raggiungere il repository dove pubblico tutti i codici di tutti i tutorial che vi mostro. Quindi, siamo nella home, abbiamo detto. Quindi ci posizioniamo su Python. Poi, 0.2, analisi quantitativi e finanza. E entriamo qua dentro. Vedete che abbiamo a disposizione questo contenuto qui. Cosa dobbiamo fare? Prima cosa, andiamo a creare un ambiente virtuale su Python 3. Lo facciamo con questa istruzione qui. Vedete che è stata creata la directory che contiene, diciamo, gli eseguibili per gestire l'interprete di Python virtuale. Quindi, adesso cosa facciamo? Lo attiviamo. Quindi, comando source, benv, bin e activate. Ok. Vedete che l'interprete Python a questo punto è attivato. Adesso, andiamo a installare tutte le dipendenze per eseguire il codice che vi presento. Per farlo, lo facciamo col comando pip. Quindi, pip. Ho sbagliato, scusate. Install. meno R e poi avrete il file di requirement che appunto contiene la lista di tutte le dipendenze. Proviamo invio e le installiamo tutte. Benissimo, abbiamo finito. Quindi, a questo punto, lanciamo lo Upyter notebook. Ecco che si avvia e il file su cui andremo a lavorare è questo Portfolio Management. Ok. Vediamo se... Vedete, in questo caso, al primo avvio, per qualche ragione, non riesce a importare bene la libreria Finquant. Quindi, cosa faccio di solito? Esco dal file, chiudo proprio il browser e chiudo anche la sessione del terminale. E ne apro semplicemente una nuova e mi riposiziono all'interno. Non chiedetemi come vai, però si verifica questo problema almeno sul mio computer. Non l'ho provato su altri dispositivi, ecco. Quindi, ci mettiamo document. source code, tutorials, python, 0.2, analisi quantitativa. Quindi, andiamo a riattivare il nostro ambiente, che abbiamo detto che è penv, bin, activate. Siamo dentro e riavviamo con Upyter notebook. Riapriamo il nostro file. Facciamo una restart e ripuliamo l'output. E a questo punto non dovremo più riscontrare lo stesso problema. Perfetto. Come vedete, non c'è più lo stesso problema. Allora, per eseguire questo codice, banalmente, in realtà la parte di configurazione consiste unicamente di questa cella e della successiva. Quindi, qui dovrete semplicemente andare a configurare il vostro portfoglio con le vostre allocazioni. È importante che la somma di tutte le allocation, non superi 1, proprio perché è una percentuale di questo tipo. Quindi 0,6, ad esempio, costituirà il 60% del proprio portfoglio, 22, il 22% e così via. Come potete vedere, questo qua è una rappresentazione molto semplificata del mio portfoglio, ma vi faccio vedere proprio come è sproporzionato, proprio perché, diciamo, le criptovalute hanno avuto dei rendimenti molto interessanti negli ultimi mesi. Nel caso voi voleste aggiungere un'altra criptovaluta, non dovete fare altro, ad esempio, che aggiungere un nuovo record di questo tipo e deve essere name. In questo caso potremmo aggiungere Amazon, ad esempio. e ci mettiamo una allocation simbolica e la mettiamo di 0.1 e togliamo un punto al bitcoin. Quindi andiamo a eseguire questa cella. Vedete qui potete andare a configurare la start date, che praticamente corrisponde appunto dalla data di cui si andranno a scaricare i valori di tutti gli asset del portfoglio in questione. Qui vi va a stampare semplicemente un recap di tutti i ticker, cioè di tutti gli identificativi degli asset che fanno parte del portfoglio e qui vi vado a spiegare sostanzialmente che cos'è lo Sharpe Ratio. Lo Sharpe Ratio non è altro che un rapporto tra il rendimento di un titolo e la sua volatilità. Indica quindi quanto è alto il rendimento in rapporto al rischio che ci si sta prendendo sostanzialmente. Quindi ha un valore di Sharpe Ratio più alto, significa che sostanzialmente il nostro portfoglio molto probabilmente performerà bene. Quando invece lo Sharpe Ratio è sotto la soglia di 1, vuol dire sostanzialmente che il rischio è molto maggiore, almeno dei rendimenti che ci sono stati fino a questo momento. Questa cella qui non fa altro appunto che andare a prendere i dati che abbiamo già configurato e va a fare la build del nostro portfoglio. In più, PF Properties va a stampare quelli che sono le caratteristiche. Vediamo intanto che in questo caso il portfoglio ha uno Sharpe Ratio che è maggiore di 1, quindi vuol dire che dal punto di vista rischio e rendimento ha dei valori discreti comunque, anche se poi i valori molto buoni in realtà sono per portafogli che hanno Sharpe Ratio oltre il 2 sostanzialmente. Però tutto quello che è sostanzialmente maggiore di 1 significa che è positivo sostanzialmente. Quindi cosa vi dice? Abbiamo un'aspettativa di ritorno del 78%, almeno rispetto ai dati che sono stati scaricati dal 2016 fino a questo momento. E una volatilità che comunque è abbastanza importante che è del 46%. Poi vi devo fare un recap appunto di come sono le allocazioni del portafoglio. Nel caso non fossero inserite diciamo queste allocazioni, sarebbero messe e distribuite diciamo equamente fra tutti gli asset. E poi sostanzialmente questi qua sono dei dati statistici sulla distribuzione dei prezzi per i singoli titoli. A questo punto entriamo direttamente nel vivo della simulazione del nostro portafoglio dell'ottimizzazione. E sostanzialmente in cosa consiste? Noi quindi abbiamo visto che ad esempio il nostro share ratio per questo tipo di distribuzione di allocazioni è di 1.68. Però come varierebbe lo share ratio se cambiassero queste allocazioni? È proprio quello che fa la simulazione Monte Carlo. In questo caso la libreria cosa fa? Semplicemente esegue 5.000 tentativi cambiando in maniera random le allocation di questi titoli. Quindi se io vado ad eseguire questa istruzione, ci mette un po' perché appunto lui sta eseguendo tutte queste 5.000 simulazioni. Se aumentassimo questo valore, proviamo ad aumentarlo ad esempio a 10.000, vedete che ci metterà più o meno esattamente il doppio. A questo punto la simulazione ha generato questo grafico. Questo grafico cosa indica? Innanzitutto sulle ordinate vedete quelli che sono i ritorni attesi, appunto valutati sulle serie storiche scaricate fino a questo momento. Invece sull'arco, sulle scisse, è rappresentata la volatilità. Quindi, cosa possiamo dedurre? Vediamo che è generata questa linea che appunto è detta Efficient Frontiers ed è disegnata a partire dalle simulazioni. Questo perché è la linea di massimo rendimento tra la volatilità e i ritorni. Infatti, se noi prendiamo un ritorno del 60%, vedete che in questo punto si ottiene il minimo della volatilità. Se ci spostassimo in questa zona qui, naturalmente avremmo altri pesi di portafoglio, però naturalmente con una volatilità maggiore. Quindi perché avere quel tipo di distribuzione, quando ne possiamo scegliere una, che a parità di rendimento ci mette più al sicuro? Poi, questa libreria calcola, diciamo, una serie di punti interessanti. Vabbè, la prima è sicuramente quella del nostro portafoglio iniziale. Quindi vedete che il mio portafoglio si colloca all'incirca, leggermente sotto, la Efficient Frontiers. Quindi sicuramente si potrebbe ottimizzare. Però potete anche vedere che appunto abbiamo un ritorno atteso sicuramente interessante dell'80%, però una volatilità appunto non banale da dover sostenere. Un'altra funzione interessante di questa libreria è appunto quella di andare a definire quali sono alcuni punti interessanti. Tra questi prendiamo il punto di massimo share ratio, cioè dove abbiamo il miglior rapporto tra rischi e rendimenti, per ripeterlo, e poi abbiamo anche il punto dove la volatilità è minore. E quindi noi potremmo farci suggerire quali sono le allocazioni di questi asset in modo da raggiungere questi due target, fondamentalmente. Quindi in questa cella qui io mi vado a stampare qual è il punto di massimo share ratio. Quindi andiamo a eseguire la cella e come vedete lui propone una serie di allocation. Quindi in questo caso abbiamo Alibaba all'8%, Barrick Gold al 16%, Ken Gold al 5% e così via. Naturalmente vedete che propone Bitcoin ed Ethereum in allocazioni molto minori a quelle che io ho inserito all'inizio. Quindi proviamo ad andare a vedere effettivamente. Andiamo a riavviare, diciamo, a riconfigurare il nostro portafoglio e inserire i dati che ci indica. Ok, e adesso andiamo a eseguire questa cella. Come potete vedere rispetto al share ratio che avevamo ottenuto nel punto precedente adesso siamo arrivati praticamente quasi a 2 e quindi questo qui è un portafoglio sicuramente dalle performance magari non assolute migliori di quello del precedente però abbiamo un rapporto appunto rendimento atteso e volatilità molto più favorevole. Quindi vedete abbiamo un rendimento atteso del 50%, 0.49 però con una volatilità del 25% quindi decisamente molto meno rischioso. se noi torniamo indietro potete vedere appunto di quanto sono variati questi valori. Ultimo appunto naturalmente tutti i ticker, i nomi degli asset che potete inserire per poter scaricare le serie storiche in questo caso devono essere compatibili con Yahoo Finance in questo caso. C'è anche un altro servizio che si chiama Quando che eventualmente si può configurare oppure una funzione leggermente più avanzata è scaricarsi manualmente le proprie serie storiche e censirle in un file CSV e poi aprirlo tramite Pandas che è appunto la libreria che ci permette di andare a elaborare i dati in formato tabellare. Però questo diciamo è un argomento più avanzato che richiederebbe tutta una serie di video a parte. Nel frattempo fatemi sapere se questi contenuti vi interessano commentate se avete bisogno di più informazioni e nel frattempo io vi saluto e ci troviamo nei prossimi video. Grazie a tutti da Valerio.